foodglory.com per i vostri spacchettamenti trovate il link in descrizione buona missione e ciao a tutti amici sono il vostro caro Dexter e oggi siamo tornati qui su FIFA 17 perchè sono pronto a vincere il draft primo draft che faccio su FIFA 17 sono curiosissimo di provare i giocatori fenomenali tipo Ronaldo o Messi e ragazzi se questo video raggiunge 70.000 mi piace mi compro Ronaldo o Messi scrivete chi dei due qua sotto nei commenti e lo mettiamo per un Road to Glory o Road to Division 1 quindi spollice da più non posso ma adesso pronti per iniziare e vediamo subito il modulo si tutte schifezze eeeh prendiamo il 4-3-1-2 ooooo e che prendiamo? Messi o Bale? si vabbè Bale per forza Bale perchè almeno si lo mette attaccante riserve no schifo no vido oh Sanchez buono Sanchez e mo devo fa un'ibrida però uuuu Boateng con Scelnini ci serve di più si fa tutto francese beh ragazzi questa è la mia squadra completa un misto tra baggato e devastante curiosissimo di provare Modric e Bale ma soprattutto in mezzo c'è il mula che desengula ma adesso pronti per la prima partita e vediamo chi ce capita prima partita contro i baggatoni attenzione molto bene Bale è da solo Bale non te la cagà se l'è cagata non è finita Bale non iniziamo bene Oscar molto bene uno due Oscar si gira Oscar ho rotto il joystick mi è cascato un pezzo del joystick per fare skill uno così recupera Garrett Bale con le skill servi Oscar dai ancora Oscar per Bale dai ok non è finita Bale 1 a 0 iniziamo subito così Garrett Bale l'uomo da 100 milioni grande azione 1 a 0 fanno venire subito in alto buono bloccalo spaccalo ok Modric in possesso palla fa fuori un avversario ne fa fuori un altro ancora Modric ha un ottimo tiro non va in mezzo che ha segnato Kurzawa 2 a 0 dai è così gran calcio d'angolo Kurzawa salta più in alto di tutti e la butta dentro fine primo tempo abbiamo dominato stiamo dominando continuiamo così Oscar per Bale Bale tenta la giocata lo vede dai Modric si è da solo Luca Modric 3 a 0 dai così gran giocata di Bale famoglie pure il quarto in Bula prova a cercare spazi non li trova dall'indietro dai Sanchez si gira da solo e oggi va così e iniziamo subito non alla grande ma alla grandissima rosica e facciamo guittare l'avversario prima partita stra dominata pronti per la seconda contro buono un'ottima squadra e ci siamo dai andamoglie subito un gol bene Bale che si gira sterza a servire Sanchez non lo fa non lo fa tira bloccalo non lo fa tira 3.000 skill angolo dai Curzava sempre lui sempre lui curzava 1 a 0 Oscar dai la possibilità per Sanchez gran numero raga spolliciata più un po' che partita che gol gran numero di Sanchez ciao 2 a 0 facciamo guitta pure questo Oscar ruba subito palla Oscar prova a girare ci riesce Veronica dai così oh che andiamo in gol dai che andiamo in gol pallonetto ok ok se non l'avete ancora fatto spolliciata più non posso numeri di alta classe quanto cazzo è forte Oscar ve lo giuro non pensavo di segnare e invece tac pallonetto morbido 3 a 0 subito così neanche il primo tempo gli facciamo venire e attenzione guarda che quitta tataratta eccoci pronti per la terza partita contro gli scardatori dei pizzette faremo quittare anche loro se ne va Sanchez rientra molto bene non c'è nessuno vai a pressare recupera Oscar la skill Oscar troppe skill inutili secondo me però ci siamo oh guarda che mi risegna Kurzawa no oh Modric vai però tira vai Modric non va eccola ancora che riparte Oscar mamma mia padrone del centro campo gli spazi per Bale la sofferenza la sofferenza 0 a 0 fine primo tempo possiamo fare di meglio possiamo fare di meglio porca mignotta son cazzato nero dagliela subito Sanchez sì 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 cazzo non avete sentito niente uno a uno è il nino meraviglia Sanchez subito così dopo le skill di Bale dai vince Bale tenta di penetrare vabbè oggi va così raga oggi sono un fenomeno che te devo dire 2 a 1 grande giocata di Bale la difesa inesistente e andiamo in vantaggio dai dai che facciamo pure il terzo mamma mia è bello tutto sudato attenzione Sanchez però una skill inutile non ce la fa ancora Sanchez tira vai 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 la mette lui in bula tesi in cula 3 a 1 minaccia aerea trofeo subloccato e andiamo così no è Kantè non era in bula tesi in cula pure Kantè 3 a 1 non famo cazzate attenzione Modric se ne va ancora Modric grandissimo Modric e vabbè e vabbè ragazzi spolliciata più non posso miglior torneo finora mai fatto 4 a 1 che recupero che giocate che fenomeno Modric e attenzione booo oggi ho fatto quinta a tutti vinta anche questa e siamo in finale ragazzi ho troppo carico ho troppo fomentato dai siamo prontissimi a vincere la finale abbiamo fatto quinta a tutti mamma mia e chi sono questi Sanchez di forza se ne va ancora Sanchez apri per Bale Garrett Bale dai gol della merda sti cazzi gol della merda sti cazzi 1 a 0 1 a 0 1 a 0 quanto 1 è sto fomentato stavo in finale foot draft è basta no è basta vada la finale dai calcio d'angolo non ci arriva dai fai la skill e dai così 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 2 a 0 con ha ammazzato quello oh rigore rigore così regalato va bene ci piace grandi skill di Sanchez e ok ha fatto una cazzata sacco ce lo cagare e Modric 3 a 0 partita quasi chiusa draft quasi vinto Modric non può sbagliare se ne va accantè rimbula mamma mia vabbè così non c'è gusto però le praterie pallonetto ciao ciao miglior torneo mai fatto oggi mi riesce tutto a FIFA tiè non lo so lasci questi spazi Sanchez sente perdona fine primo tempo l'abbiamo devastato secondo tempo dai Garrett Bale se ne va non va mannaccio oh recupera palla dai Oscar ha un ottimo tiro è ok anche gli ottimi tiri 5 a 0 oggi mi esce tutto regà veramente 70 mila mi piace almeno oggi è così champagne hashtag champagne qua sotto nei commenti amo questo FIFA 17 ha un ottimo tiro gran gol anche d'angolo vai Modric eh non mi esulto neanche più 6 a 0 come tanto va così sarà come più il gol ecco faccio classico 6 a 1 sti cazzi oh e non mi seleziona però vabbè 6 a 2 non credo che mi recuperi all'ottantunesimo eh dai fischi arbitro Modric vuole il gol ancora Modric dai così non va Modric dai 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 si e finisce qui 6 a 2 grandissima partita grandissimo torneo prontissimi a ritirare il nostro premio due pacchetti soli da tutto sto casino gol della madonna due pacchetti soli andiamo ad aprirli almeno mettono da un top player una merda secondo e ultimo pacchetto ragazzi 35.000 mi piace prossimo draft top player chi è uh ottimo Coutinho e va bene finiamo anche in bellezza con Coutinho dovrebbe valere intorno 70.000 con Coutinho iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto facebook e instagram tutto in descrizione noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video vi mando un abbraccione un salutone e ci vi ciao gente